In attesa d'un mattino che non ha proda, che non si cura dei sussurrati singhiozzi, i logori pensieri smangiati dalla vita escono allo scoperto nel buio della notte. Sulle tombe del sonno, in cerca d'un'anima accesa, che sappia ascoltare, alla quale confidare la pena, ma in quegli istanti estremi nessuna si leva, tutto è invisibilmente muto, tranne il dolore, che senza pietà stringe a sé la disperazione, che sembra mortalmente asfissiare la vita, ma ecco manifestarsi nel risveglio del mondo, Dio, quale miracolo dal cielo, la sua luce. e 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 luce.